liberamente liberamente a tutti liberamente con Danilo Cappiello con il suo sportivamente ciao Danilo ciao Maurizio buonasera ben ritrovato dopo queste due settimane di di assinenza mi scuso però purtroppo insomma impegni lavorativi mi hanno mi hanno costretto i box dai diciamo diciamo ti sei preso le ferie pagate dai diciamolo bene Danilo allora noi ritorniamo con il botto perché eh ci eravamo fatti una promessa che dovevamo parlare di sport a trecentosessanta gradi dovevamo dare spazio a sport considerati tra virgolette se no gli ospiti già ci ci mangiano minori e quindi stasera eh siamo come si dice tecnicamente in lunetta perché siamo con i protagonisti della vita del basket vitontino e nell'ordine come ce li ho io eh sul monitor saluto e ringrazio per aver accettato l'invito di Danilo e il mio Antonio Schiraldi ciao Antonio grazie a voi buonasera a tutti della ASD Virtus Vitonto eh ringrazio Giuseppe Granieri ciao Giuseppe buonasera buonasera a tutti e grazie per l'invito del dell'ASD Sporting Club Vitonto e poi per non farci mancare niente abbiamo invitato anche il capitano della prima squadra dell'ASD Sporting Vitonto che è Nicola Pastoressa che saluto e ringrazio ciao Nicola ciao buonasera a tutti e grazie dell'invito allora eh visto che ci sono anche dei problemi di di orario e di impegno io vi lascio subito nelle mani di Danilo che ovviamente tecnicamente giornalisticamente sportivamente è più preparato di me eh Danilo trattami bene qualcuno degli ospiti perché eh c'è c'è il mio figlio nelle loro mani quindi va bene va bene va bene te li tratto bene te li tratto tutti quanti in in maniera uguale allora io eh vi ringrazio innanzitutto per la disponibilità ad aver partecipato a questa questa trasmissione e vi faccio i miei complimenti per l'operato che svolgete quotidianamente perché eh date vita ad uno sport tra virgolette minore per quel che concerne il panorama italiano o per quel che concerne forse il panorama del del sud perché se ci spostiamo insomma di di qualche chilometro abbastanza chilometri in America sareste il primo sport sareste il primissimo sport eh ad essere praticato io penso che eh facciate un lavoro importantissimo perché ripeto eh date possibilità a ai ragazzi di potersi esprimere attraverso sport che non riguardino il il calcio o il fuzzolo o chi che sia per questo la mia prima domanda che rivolgo insomma a a tutti voi eh dove e come nasce la la passione per il basket eh facciamo una cosa andiamo in ordine andiamo in ordine per grafica per grafica partiamo dal signor schialdi facciamo parlare prima Antonio anche perché con la a quindi eh sì è perfetto io vi devo chiedere scusa non l'ho ascoltata bene la domanda un problema con i teori volari ok ok te la ripeto subito eh dicevo avete un grande compito voi che è quello di di dare vita eh in Italia e più al sud insomma ad uno sport minore come il basket ma dove nasce esattamente la passione per il basket e cosa vi spinge quotidianamente a lavorare coi ragazzi beh sicuramente cioè per quanto mi riguarda io ho iniziato a mia passione per il basket nasce dal dal averci giocato ehm devo dire che è stata molto strana come eh come cosa perché mio padre viene dal mondo del calcio è un appassionato incredibile del calcio però quando ho iniziato lui cui il primo quando avevo cinque anni a dirmi guarda andare a calcio va bene però se riusciamo a trovare un altro sport che ti piaccia ne sei contento eh dopo una sola lezione alla scuola Cassano con il mitico Provencio di Gioia che facevano un basket allo Sporting Club perché prima c'era solo lo Sporting che tutti quanti siamo passati passati di lì mi sono innamorato di questo di questo sport e da allora non l'ho non l'ho più lasciato anzi diventato anche anche il mio lavoro e mi dà tantissime soddisfazioni il grazie mille Antonio adesso cedo la parola al signor signor Granieri presidente del dello Sporting Club Bitonto prego presidente la passione nasce da 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 aver giocato trent'anni a palacanestro e come diceva giustamente Antonio no tutti sono passati dallo Sporting Club e quindi questa l'aver giocato l'aver vissuto eh l'ambiente sportivo l'ambiente del basket non ha fatto altro poi che come dire in maniera eh come si dice conseguenziale aver smesso di giocare e aver iniziato a pensare a fare il dirigente in una eh associazione sportiva e e non poteva che essere nello Sporting Club proprio per cercare di far rivivere e di ricreare l'ambiente che è sempre stato e sempre come dire ha ha fatto crescere un bel po' di di ragazzi eh sia in palestra e poi con gli insegnamenti della palestra eh portati fuori e quindi non per nulla il il basket e soprattutto il basket bitontino quanto un bel un bel numero di atleti laureati quindi evidentemente gli insegnamenti portati sul campo poi hanno reso i loro benefici anche fuori tant'è che la popolazione come dire sportiva del basket eh e di un livello culturale abbastanza alto considerato il numero di atleti come dicevo prima laureati e quindi eh tutta la passione la mettiamo per far sì che i ragazzi possano capire che cosa significa lo spogliatoio capiscono che cosa significa condividere capiscono che cosa significa aiutare gli altri per poi sperare che questi insegnamenti servano in maniera predominante nel nella vita anche assolutamente sì adesso passiamo passiamo a Nicola e passiamo forse all'aspetto insomma quello non dirigenziale ma certamente per ciò che riguarda il il campo Nicola cosa vuol dire essere un giocatore di basket eh questa è una bella domanda eh per rispondere a questa domanda parto dalla mia esperienza cioè da come mi sono avvicinato al mondo della palacanestro che è un'esperienza eh per certi versi simile a quella di Antonio e per altri totalmente diversa ma molto simile alle storie dei film perché io vengo da una famiglia di eh sportivi che tutto praticavano meno che la palacanestro papà pallavolista amante del tennis e come tutti i bambini da piccolo eh volevo giocare a calcio ho fatto due lezioni a scuola calcio sono rimasto colpito in negativo da una serie di episodi che probabilmente fossero successi in altri giorni avrebbero avuto un'influenza diversa su di me e quindi ho virato sul nuoto e su altri sport a quindici anni quindi relativamente tardi rispetto al a a quelli che sono gli standard di avviamento all'attività sportiva ho accompagnato un amico ad un allenamento di palacanestro l'allenatore dell'epoca che poi è diventato il mio allenatore mi ha coinvolto malgrado non fossi in abiti prettamente ginnici e da quel giorno non sono più uscito dalla dalla palestra nel vero senso del termine nel senso che ho iniziato a fare l'allenatore il giocatore ho provato più che altro delle giovanili quindi poi ho affiancato all'attività di giocatore il corso da istruttore mini basket e quindi mi sono dedicato anche alla alla formazione di tutti e ad oggi continuo o ci provo continuo a tentare di giocare a palacanestro perché non posso sostanzialmente farmi più a meno quindi la risposta alla tua domanda a cosa significa essere un giocatore di palacanestro potremmo starmi a parlare per un'ora sicuramente significa praticare uno sport di squadra e quindi avere secondo me un qualcosa in più che ti rompa la monotonia della giornata lavorativa o di studio che sia e condividere un ambiente piacevole alternativo a quello della famiglia e inevitabilmente poi si crea una seconda famiglia infatti spesso nel mondo degli sport di squadra si sente parlare di gruppo squadra di famiglia sono parole non usate a casa ma che sicuramente sotto hanno qualcosa di vero e impersfruttabile per chi c'è fuori il più delle volte bisogna starci dentro per capire di che cosa si parla perfetto grazie anche a te nicola per per questo intervento stavamo parlando insomma di sport di squadra stavamo parlando di gioco praticato nella fattispecie nella mente di un giocatore che scusatemi insomma però siccome per una questione di orari vuole dare un po' di priorità in più a a nicola nella fattispecie eh cosa si prova esattamente nell'essere in campo avere una un timer che comunque ti conta i secondi perché il basket è uno sport posato insomma potremmo dire fondato sui secondi sulla gestione dei secondi cosa vuol dire quindi essere in campo avere quella sorta di velocità di azione e di pensiero e soprattutto come gestire l'ansia da sirena vado io Danilo? sì assolutamente sì 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 allora la cosa si prova ad avere l'ansia da sirena eh parto da un presupposto la palla canestro è uno sport che possono praticare tutti ma devono essere pronti a praticare tutti perché e bisogna essere allenati a praticarlo ma costa tutti i livelli dai più piccolini e più grandi perché come dicevi tu nella palacanestro giovanile e eh anche in quella senior ci sono ventiquattro secondi per concludere un'azione quindi la componente tempo è una componente fondamentale questo cosa significa che si ha un tempo ristretto per prendere decisioni importantissime nell'ottica del gioco che possono comportare un canestro un fallo fatto un fallo subito o una palla persa è tutto lì che sta l'essenza del gioco e che cos'altro è questo se non quello che accade ogni giorno sul posto di lavoro in famiglia con gli amici prendere decisioni in un tempo ristretto e quindi allenarsi ed essere allenati sin da piccoli nella forma del gioco in tutto quello che vogliamo ovviamente compatibilmente con le fasce d'età dalle quali si fa riferimento e arrivare allenati alla partita significa arrivare allenati non voglio dire alla vita perché sennò cadrei nel retorico però significa essere pronti giornalmente a prendere le decisioni e secondo me l'ansia da sirena la si vince semplicemente giocando perché si arriva pronti sia mentalmente ma soprattutto fisicamente e viceversa a vivere queste situazioni tanto in campo che poi quegli errori li facciamo tutti e dobbiamo fare tutti io sono dell'idea che più tiri si sbagliano e più tiri si prenderanno perché si acquisisce consapevolezza dei propri mezzi e se si acquisisce consapevolezza anche nei propri limiti e quindi si fa di tutto per riuscire a superare Nicola cosa si prova nell'esatto momento in cui è appena effettuato il tiro e la palla deve ancora arrivare al canestro che sensazione si provano cosa vi passa per la mente in quella in quella frazione di secondi lì quando tutto deve ancora deve ancora compiersi e quindi può essere un canestro da tre punti o può essere insomma un canestro che va a sbattere sul ferro diciamo nel mio caso si verifica nella maggior parte delle ipotesi la seconda dell'eventualità quindi diciamo dovresti dirti quello che accade nella mia testa è tra quanti secondi arriverà la cazziata dell'allenatore che mi ha detto perché stai tirando perché non sono propriamente un tiratore di fino diciamo per usare un neofemismo però no venendo al al concetto sotteso la tua domanda è sicuramente la parte più emozionante del della palacanestro almeno per quanto mi riguarda anche chi non ha mai visto una partita per 40 minuti se vede gli highlights o cerca dei video su youtube è pieno di tiri decisivi che decidono una partita in centesimi in decimi di secondo e quale altro sport ti dà questo tipo di emozioni il calcio sì per carità ci emozioniamo tutti nel vedere la finale di europa league che si protrae fino al quindicestimo calcio di rigore per carità è un altro tipo di emozione ma dopo 40 minuti uno due supplementari di una partita di basket la parabola a sirena ormai suonata che sta per entrare nel canestro ci sono 20 mila persone quando i palazzetti erano pieni col fiato sospeso soprattutto quando quando c'erano i palazzetti mi conto che abbiamo un leggerissimo problema col palazzetto ma ne parleremo dopo poi quando quando la palla non sai se entrerà o finirà sul ferro credo che tutto quello che ci siamo detti prima del lavoro in palestra del lavoro psicologico della tenuta mentale noi lo facciamo per questo proprio per quella frazione di secondo nella quale la palla può entrare per uscire o può uscire dal canestro è un po' come il film match point per fare una una un parallelismo va bene va bene grazie grazie nicola allora ritorno da dal professore antonio schiraldi ma una domanda che vale anche per il signor signor granieri cosa si prova quando una coppia di genitori porta un figlio per per iscriverlo al basket da figure dirigenziali voi cosa provate sicuramente un senso di responsabilità perché penso che l'obiettivo fondamentale per le nostre associazioni sia più quello di nel nostro piccolo riuscire ad essere una parte educativa del del bambino del del ragazzo e poi quando loro arrivano nel senso di responsabilità è sicuramente è sicuramente forte lo scopo di quello che facciamo è utilizzare il nostro sport per riuscire nel nostro piccolo ad essere d'aiuto alla alla comunità sicuramente nel cercare di di aiutare questi ragazzi a a crescere bene a crescere bene a crescere sani come diceva nicola prima la la paragonia sono uno sport che punta moltissimo al senso di squadra al allo saper stare insieme al riuscire nel nella vita quotidiana a rapportarsi con con tutti anche in situazioni anche in giornate magari un po storte quindi sicuramente l'obiettivo è quello riuscire a avere un senso di responsabilità altissimo e riuscire a integrare i piccoli nel nel sistema squadra che poi è quello che li aiuta sicuramente nel loro percorso di vita con l'organizzazione dello studio perché magari abbiamo degli allenamenti alle cinque del pomeriggio e ci sono diverse diverse famiglie che magari si preoccupano per un allenamento in quella fascia oraria che magari spezza il spezza lo studio dei ragazzi però in questi anni andata via la connessione? si è bloccato Antonio si riesce anche ad aiutare i ragazzi ad organizzarsi si è bloccato Antonio Antonio devi cercare di migliorare un attimo la connessione magari prova a si ora ora mi sentite si adesso si adesso si adesso si mi sentite adesso ok si si benissimo non so non so se mi avete ascoltato si assolutamente si quindi vi dicevo che comunque è molto è molto importante anche diciamo cerchiamo anche in questo modo di aiutare i ragazzi ad organizzarsi nella nella vita quotidiana che poi una cosa che si portano anche nel futuro nella vita lavorativa riuscirsi ad organizzare per fare qualcosa che ti piace poi sicuramente ti aiuta anche a far meglio le cose che per esempio per i ragazzi sullo studio non sono tanto tanto portati però sanno che se non studiano non possono venire a basket per cui anche in questo siamo siamo di aiuto alle famiglie ma soprattutto loro per poter crescere crescere bene grazie mille Antonio la stessa domanda vale anche per il signor Granieri prego senso di responsabilità perché come dire la prima le prime domande che si fanno i genitori e che cosa si aspettano da questa da questa avventura e di là poi si si cerca di far capire qual è la filosofia della dell'associazione no perché ci sono genitori che si aspettano di tutto di più no si aspettano di avere un figlio campione si aspettano di avere chissà che cosa però poi bisogna tenere con i piedi per terra perché come dire ci sono delle priorità e queste priorità vanno rispettate studio rispetto sono cose fondamentali quindi un senso di responsabilità e di aiuto alle famiglie considerata l'esperienza che tutti quanti abbiamo nel campo nel cercare di guidare nel miglior modo possibile i genitori e i ragazzi perché Maurizio come dire testimone quando si presenta un allenamento alle tre i genitori vanno in crisi però se come dire lasciamo ai ragazzi la gestione corretta del loro tempo molto probabilmente non andiamo in crisi ma riusciamo a sfruttare al meglio e riusciamo a far organizzare al meglio i ragazzi per poter fare quello che vogliono potersi divertire e poi poter fare le cose che sono necessarie per andare avanti studio o altro nicola siccome insomma i minuti per te stanno andando davvero sempre più più a ridotto al ridotto il tuo ricordo più bello che hai legato al al basket qual è allora ne ho due sicuramente uno un po' più divertente l'altro sicuramente più emozionante il primo è la mia prima partita perché mi riallaccio a a quello che ho detto prima e cioè ho iniziato tardi e quindi entravo in un gruppo abbastanza promettente già collaudato sono stato convocato per un'indisponibilità dell'ultimo minuto di uno dei giocatori più promettenti della squadra mi sono imbarcato in questa trasferta senza avere la canotta senza avere un completino ero lì praticamente allo sbaraglio in balia di me stesso e in via del tutto inaspettata a 16 anni dopo un quarto di panchina vengo buttato nella mischia in una partita sul campo all'epoca in erba sintetica e non sto scherzando di bitritto e gli addetti ai lavori possono confermare e leggermente scomode fuori norma sì vabbè non mi soffermo diciamo sull'agibilità del campo che era anche piastrellato in alcuni punti ma diciamo il problema è stato risolto poi devo dire anni dopo i canestri c'erano o avevano messo le certifiche delle auto dei canestri c'erano 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 vengo buttato nella mischia la partita finisce bene nello spogliatoio subisco una sorta di battesimo da parte di allenatori e miei compagni di squadra sul quale non mi soffermo diciamo per ragioni di pudore quello invece diciamo dalle espressioni sia di Antonio che di Giuseppe che diciamo ci sono passati so che loro sanno di cosa sto parlando quindi vedo delle espressioni compiaciute sui loro voti e poi l'interno di squadra diciamo è una delle declinazioni del senso di squadra e l'altro canestro un po c'è canestro scusate l'altro momento un po più emozionante ma in senso negativo se vogliamo un po più fresco ed è legato alla finale promozione persa contro il Carovigno in casa la penultima stagione andammo a giocare a Carovigno persa gara 1 torniamo in casa perdiamo tre giocatori per tre espulsioni più o meno discutibili e eravamo spacciati alla Byron Moreno diciamo eh sì se fosse stato Salentino Byron Moreno probabilmente sì ma comunque malgrado ciò a due minuti alla fine eravamo sotto i diciotto recuperiamo questi diciotto punti in cinque giocatori contati senza rotazioni perdiamo all'ultimo tiro e qui torniamo allo stesso discorso di prima l'ultimo tiro va dentro ci andiamo a giocare gara tre di nuovo in trasferta per vincere il campionato l'abbiamo perso è finita però alla fine della partita nessuno si è rimproverato nulla molti piangevano molti erano distrutti però noi entriamo in campo anche per questo belle o buone sono comunque emozioni così come quelle delle partite vinte anche arrivare a giocarsi queste partite sono sicuramente momenti per i quali ci alleniamo tutti i giorni anche dopo giornate di lavoro e di studio grazie grazie mille Nicola vai vai c'è un intervento penso che Giuseppe e Nicola sicuramente lo conoscono non so se Antonio conosce no lo conosce lo conosce benissimo anche Antonio vedi gli è intervenuto due volte lo conosco benissimo purtroppo lui era uno di quelli che erano spogliatoie diciamo dette le gerarchie ah ho capito ho capito Dario io l'ho visto in campo e mi manca vederlo salutate un vecchio capitano arriva 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 allora abbiamo ripescato abbiamo ripescato devo dire devo dire che Dario è diciamo l'esempio lampante di come la pallacanestro e ma al di là della pallacanestro la persona possa andare oltre quelli che sono i colori e le rivalità sportive il campanilismo perché Dario dice salutate un vecchio capitano perché credo che sia uno se non l'unico ad essere stato sia capitano dello Sporting Club che capitano della Virtus Bitonto ha giocato in entrambe le squadre facendo bene in entrambe le squadre e come vedete è rimasto in pessimi rapporti direi io con entrambe le società grazie mille grazie cosa cosa ne pensi ovviamente da giocatore però l'eleganza di Dario in campo si si vede cioè non solo quando aveva affiato si quando aveva affiato si non l'avete visto sfoggiare i suoi outfit d'allenamento con 75 colori abbinati quindi io prima di parlare di eleganza mi piacerei vabbè io parlavo di eleganza atletica non posso esprimermi vai Dario abbiamo appena parlato insomma di un giocatore che ha vestito entrambe le casacche abbiamo parlato di rivalità e di campanilismo per questo insomma cedo la parola al signor Schiraldi per parlare un po' di questa tra virgolette rivalità sportiva fra Virtus e Sporting quando c'è stata come è stata a viverla e soprattutto una rivalità è motivo d'odio o è più motivo di stimolo vai Nicola vai Antonio scrive Antonio che non ci sente forse deve provare a rientrare magari asce e rientra aspetta che glielo scrivo sì allora comunque Maurizio eh onde evitare insomma di perdere dei minuti eh posso fare la parola posso fare la domanda al al signor Granieri quindi insomma se vuole può andare tranquillamente lei è un motivo di stimolo sicuramente un motivo di stimolo perché così come in tutti gli sport oggi vinci domani perdi dipende da da come è stata costruita la squadra in quella determinata stagione quando ci sono stati i derby in promozione sono stati come dire avvincenti perché avevamo era l'unico momento che avevamo la palestra gremita ma gremita sul vero senso della parola eh da 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 tutti i nostri ragazzi e quindi come dire eh chi vinceva chi perdeva lo spettacolo era assicurato perché come ripeto dipende da come allestisci la squadra quindi se allestisci una squadra se in quel momento stai allestando una squadra per far crescere i ragazzi il punteggio finale come dire è quasi scontato a distanza di qualche anno forse quel quel risultato scontato non è più tanto scontato ma diventa come dire un investimento che fai quindi questo ci negli anni in cui abbiamo eh disputato i derby sicuramente è stato molto avvincente e avvincente anche per quanto riguarda le giovanili è sempre lo stesso discorso quindi poi bisogna capire qual è la filosofia perché come dire se la prima squadra la la si fa per cercare di vincere il campionato cercare di far crescere i ragazzi che ormai sono fuori dalle giovanili per avere un'ossatura e una squadra che possa restare possa essere fatta da bitontini perché l'obiettivo almeno dello Sporting Club era quello di è quello di avere una squadra fatta da bitontini nella maggior parte del 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 dei giocatori e prendere da fuori così come sempre stato no da 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 45 anni andare a prendere da fuori due tre giocatori che facessero potessero far fare il salto di qualità discorso delle giovanili stessissima cosa quando ci sono stati i derby ovviamente anche lì c'era da eh da divertirsi perché come dire è stimolante vedere la crescita dei ragazzi o la regressione dei ragazzi e quindi come dire uno degli ultimi i derby è stato veramente interessante dal punto di vista come dire tecnico e quindi non può che essere eh motivo di miglioramento e motivo di come dire una una sorta di eh sprono a a a far sempre meglio odio non esiste nel nella palacanestro come dire succede tutto nel campo fuori del campo come dire i rapporti sono buoni con tutti. Grazie mille. Io farei farei parlare flash con il permesso di Antonio Schiraldi farei parlare flash eh Nicola perché sono le persone assolutamente. Assolutamente. Solo per quello. Assolutamente. Vai Nico. Allora eh ovviamente mi associo diciamo per quel piccolo che mi riguarda dal punto di vista mh del tecnico ovvero da tecnico per quanto riguarda l'obiettivo comune di crescita del settore giovanile che inevitabilmente poi praticando ed essendo iscritti agli stessi campionati si arrivano a scontrare sempre dal punto di vista sportivo ma ricordiamo che stiamo parlando di categorie e classi di età di ragazzi che la mattina dalle otto alle due sono vicini di banco a scuola e poi il pomeriggio scendono in campo e giocano l'uno contro l'altro quindi la rivalità fino a un certo punto nel momento in cui si indossa la casacca di una squadra diversa è ovvio che tutti e due scendono in campo per vincere ma quando se la tolgono tornano a essere compagni di scuola o vicini di casa e ci sono eh diciamo eh esempi che possiamo portare da una parte dall'altra dove queste cose eh succedono ma se vogliamo è anche il bello e lo stimolo eh della paracanestro. Da giocatore invece è un altro conto eh diciamo parlo adesso da giocatore da capitano eh e negli annali che storicamente siamo in svantaggio dal punto di vista dei derby vinti e per eh le ragioni di cui parlava prima il presidente di cui sicuramente poi darà atto Antonio dopo eh però mh senza volermi ripetere eh giocarli è l'importante vincere o perdere poi ovviamente chi li vince gioisce e chi li perde soffre ma personalmente io che li ho giocati tutti e qualcuno l'ho vinto e tanti altri mi ho persi quelli che ho vinto me li sono goduti l'obiettivo è quello di giocarne sempre di più e l'obiettivo è quello di vincere sempre di più certo eh dovendo fare una considerazione di carattere generale e mi riferisco proprio all'ultimo che si è giocato indipendentemente dal risultato che fortunatamente ha arriso allo Sporting Club ogni volta che si è giocato un derby indipendentemente dalla categoria che fosse prima divisione che non abbiamo mai giocato promozione o serie D comunque indipendentemente anche dal valore delle squadre in campo che oggettivamente poi basta vedere la classifica da un lato e dall'altro sia quando abbiamo vinto noi sia quando ha vinto la Virtus si sapeva bene o male quale potessero essere eh gli esiti della gara ma comunque non è mai mancata la presenza del pubblico alle partite cioè abbiamo fatto registrare in uno sport tra virgolette enormi minore e torniamo a quello che abbiamo detto all'inizio eh una struttura quale che fosse quando si è giocato nella palestra dell'industriale o quando si è giocato al tenso statico comunque gremita in ogni ordine di posto vi ricordo il primo derby che si è giocato al tenso struttura c'era la gente oltre che sugli spalti anche dietro i canestri ai lati del campo perché è comunque simbolo che da un lato e dall'altro si è creata una passione un avvicinamento a questo sport che probabilmente prima non c'era e si è dato possibilità di venire a vedere uno spettacolo al di là del tasso tecnico in campo che mancava la città di Bitonto che storicamente è stata una città calciofila a buon diritto e che comunque ha visto nella palla canestra non soltanto un'attrattiva per i familiari dei tesserati che comunque storicamente vanno a vedere la partita se c'è il figlio se c'è il cuginetto o l'amichetto ma si creava l'evento annuale quelle due volte durante la stagione sportiva che potesse essere il derby poi ovviamente l'aspetto della simpatia dell'antipatia di chi vince chi perde felice chi perde che dice felice chi perde è triste mi riporta quello che ho detto prima così come mi riporto e Dario che è intervenuto prima nella conferma che anche nella squadra senior talmente è lampante l'idea che si giochi e si limiti ai 40 minuti del campo il rettangolo di gioco la rivalità sportiva che c'è gente che è passata da un lato all'altro che poi è ritornata da una società all'altro e con la quale tutt'oggi sia in ottimi rapporti gente che è andata a giocare altrove che quando viene a giocare da noi abitonte comunque si ferma per il dopo partita torniamo sempre al discorso dell'aspetto squadra e aspetto famiglia che va oltre il colore insomma grazie 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 mille Nicola per questo tuo intervento ma anche insomma per aver scelto di partecipare a questa questa puntata noi ti congediamo giustamente insomma ai tuoi impegni lavorativi e ti ringraziamo ancora una volta insomma per per averci portato la la tua testimonianza dal punto di vista davvero del del campo dal punto di vista agonistico diciamola così grazie a voi scusate se non posso trattenermi fino alla fine no Nicola io devo salutarti con parole non mie ma è intervenuto Francesco Cariello che dice Nicola pastoressa rappresentante dello sport di Tontino rappresentante non eletto non eletto mentre invece Dario si è subito tuffato per essere invitato in trasmissione quindi Danilo prendi prendi assolutamente assolutamente il principe vuol venire in trasmissione quindi tenete una giornata libera se fate venire in trasmissione serve una mezza giornata lì Danilo poi io ti voglio dire che noi Nicola lo dobbiamo congedare perché Nicola è anche quello che si occupa dei messaggi sulle sulle varie chat whatsapp quindi sicuramente adesso dovrà dare indicazioni per qualcosa del fine settimana vero Nicola? per il tampone di domani in primis per il tampone di domani delle giovanili e poi il calendario gare del fine settimana perché venerdì e domenica l'under 15 ha un doppio impegno e quindi se non facciamo in trasferta venerdì e domenica in casa il protocollo fit prevede un tampone entro 48 ore prima della gara quindi va fatto il tampone domani stessa prima della partita e poi ripetuto per domenica quindi adesso corro a informare i genitori sui gruppi whatsapp va bene Nicola grazie grazie mille per grazie a voi buona serata ciao 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 allora morizio dicevamo adesso facciamo la stessa domanda al al signor schiraldi i derby e quindi la rivalità tra virgolette vista dal punto di vista della virtù sperando che mi sentiamo Antonio ti sentiamo malissimo ti sentiamo a livello di audio no ti sentiamo lontanissimo prova ad uscire rientrare magari se vuoi puoi uscire rientrare se vuoi utilizzare il microfono ambientale o al massimo Antonio se hai un cellulare con delle auricolari insomma utilizzare il cellulare ti aspettiamo grazie mille grazie Giuseppe posso darti del tuo certo hai appena hai appena insomma pochi minuti fa in trasmissione hai detto che sei un ex giocatore con anche una bella carriera alle spalle che ricordo porti di te giocatore e soprattutto insomma in quanti ragazzi ti rivedi in quanti ragazzi vedi un progresso a livello a livello insomma generazionale e in quanti invece vedi un regresso sempre per lo stesso motivo Giuseppe se mi permetti io aggiungo una cosa siccome io ve lo ricordo come giocatore per quanto io di basket ne capisco quanto di fisica quantistica e siccome ho mandato il link in giro per il mondo per la diretta Giuseppe mi sa che ti conviene salutare anche qualche ex tuo amico di squadra che sarà in giro per il mondo ne abbiamo tanti di amici di squadra ne abbiamo tantissimi in realtà Giuseppe poi permettimi una parentesi seria magari salutiamo anche con un caloroso abbraccio Mimo Palermo che è stato colpito da un lutto in questi giorni quindi gli siamo vicini però erano praticamente inseparabili Giuseppe e Mimo Ciccio e Ciccio un abbraccio a Ciccio un abbraccio a Ciccio Palermo allora guardate aver giocato a palacanestro da 15 anni credo 14 anni nella prima squadra e aver giocato fino a 30 anni 31 anni ho come dire passato generazioni più grandi di ragazzi più grandi e ragazzi più piccoli e come dire e con queste persone abbiamo vissuto ma vissuto veramente perché allenarsi andare a giocare significa condividere tempo e tempo e passione e quindi quello che mi ha mi porta e vorrei che i ragazzi oggi capissero è che stare in palestra non è soltanto stare in palestra per migliorarsi dal punto di vista tecnico ma è soprattutto stare con gli altri socializzare con gli altri perché con Mimmo con Lorenzo Lorenzo De Astis con Vito Tufariello Arcangelo Adriani Vito Lossini Pippo Del Vino Pippo Del Vino adesso non vorrei come dire dimenticare nessuno ma tutti tutti e abbiamo passato giornate splendide no trasferte fatte dappertutto in giro per la Puglia finali finali di di serie finali per andare in serie C che come dire una squadra di sfessati persone che come dire giocavano a palacanestro per divertimento si sono trovati a combattere per andare a giocare in serie C quando non abbiamo mai visto un centesimo giocavamo a palacanestro ed eravamo contenti di poter giocare a palacanestro quello che oggi nella maggior parte dei casi si assiste qualcuno che come dire giochicchia a palacanestro e inizia a dire va bene ma siccome io sono un fenomeno che cosa c'è per me questa cosa come dire disarmante perché nella filosofia e parlo di filosofia come dire dello sporting club quello che si cerca di fare è investire tutte le quote recuperate per cercare allenatori che siano in grado di far crescere al meglio i nostri atleti quindi significa cercare andare alla ricerca di persone che non dico che facciano in maniera preeminente il discorso il discorso di allenatore ma che abbiano come dire le caratteristiche per far sì che ci siano che si allenino che allenino i ragazzi nel miglior modo possibile e quindi questa è come dire il bagaglio che mi porto dietro e le emozioni che mi porto dietro perché ricordare i tempi di quando si giocava all'industriale di sabato pomeriggio ed era le partite erano seguitissime è emozionante lo Sporting Club non ha mai avuto come dire tranne due tre elementi di spicco che poi sono andati a giocare in serie superiori ma chi era a Bitonto come dire era un giocatore che rendeva cara la pelle quindi chi veniva a giocare a Bitonto difficilmente se ne usciva come dire con con 30 punti dati allo Sporting Club se la doveva sudare chiunque fosse e quindi questo ci 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 rende ci rende come dire e quando ci ritroviamo ancora oggi sui campi con gli oramai quasi tutti i dirigenti è quello che ci piace ricordare perché come dire è emozionante ricordare quei momenti questo è devo notare devo notare che diciamo gli atleti attuali non hanno i vostri centimetri però Giuseppe eh sì siamo alla ricerca che noi cerchiamo di tirarli il più possibile però come dire non non riusciamo a trovare eh non riusciamo a farli mettere su centimetri questo eh e spiace però come dire non disperiamo mai non disperiamo non disperiamo Giuseppe proprio ieri eh proprio ieri su Netflix è uscito il film su Roberto Baggio stiamo parlando di una figura che va oltre insomma l'aspetto calcistico eh forse è uno dei maggiori rappresentanti a livello mondiale per per lo sport in generale e tutta la sua vita si è basata su due principi cardini l'umiltà e il sacrificio ti dà fastidio quando vedi eh ragazzi bravini ma allo stesso tempo presuntuosi e non volenterosi davvero di di migliorare convinti già di essere arrivati quando ti irrita questa questa cosa qui dal punto di vista dirigenziale ma anche da ex giocatore allora da ex giocatore ti dico mi ha irritato tanto che come dire quando non non ero non avevo più come dire le gambe per per stare dietro ai ragazzini perché no la fortuna dei ragazzini che hanno tanto fiato e corrono più dei dei vecchietti quando eh e come dire i vecchietti giocano di esperienza cercando di far capire ai ragazzi come muoversi no perché uno sport di squadra ti dicevo da quando avevo quindici anni ho giocato con persone che avevano dieci quindici anni più di me quindi mi davano gli insegnamenti sul campo e questa cosa quando siamo diventati noi grandi e c'erano i ragazzi più piccoli i ragazzi più piccoli e tu hai descritto in maniera come dire perfetta l'atteggiamento era quello di dire noi siamo più forti mettiti da parte ovviamente questa cosa ha portato a farci che queste persone questi ragazzi non potessero migliorare più di tanto perché vero si l'allenatore poi dipende sempre dall'allenatore che si ha da che cosa si fa però come dire se non hai l'esperienza o qualcuno di esperienza che ti guida sul campo poi fai il doppio della fatica a capire come muoversi e mi ha dato tanto fastidio tant'è che ho smesso di fare il giocatore e me ne sono stato a casa per un po' quindi ti lascio immaginare adesso che faccio il dirigente quando c'è qualcuno del genere dico preferibile che andate da qualche altra parte a giocare perché non mi interessano queste persone non mi interessa questo tipo di giocatore perché poi l'esperienza ci dice che questi giocatori a un certo punto smettono di essere giocatori smettono di entrare in campo smettono spariscono e quindi è verissimo è verissimo serviamo nulla l'umiltà forse è la cosa che più serve ed è merce rara al momento stessa domanda rivolgo rivolgo a te Antonio raccontaci brevemente i tuoi trascorsi da giocatore raccontaci insomma se ti rivedi in qualche ragazzo attuale e cosa ti dà fastidio delle generazioni attuali spero spero mi sentiate adesso forse un po' male ma spero mi sentiate ok va bene sei con ritardo ma ti sentiamo dai mi volevo solo riagganciare prima alla questione alle questioni derby secondo me i derby in questi dieci anni sono stati degli eventi sportivi per la nostra città incredibili penso che pochissime realtà abbiano la possibilità di vantare i derby che abbiamo giocato noi qui a Bitonto tantissime volte gli arbitri che sono venuti ad arbitrarci sono rimasti sbalorditi da quello che stava che stava succedendo perché per le categorie in cui abbiamo disputato i derby erano c'era tanta di quella gente che era fuori dalla dalla normalità per quelli che sono stati i campionati e devo dire che sicuramente i derby hanno aiutato penso entrambe le società a farci conoscere di più sul nostro territorio per noi era importante la prima squadra e che la prima squadra avesse risultati perché all'inizio della nostra attività noi siamo un'associazione che da 12 anni fa attività per cui all'inizio quando abbiamo abbiamo iniziato avevamo bisogno di una vetrina che ci permettesse di farci conoscere a tutte le persone di Bitonto e utilizzamola la prima squadra e anche il costruire delle prime squadre molto molto competitive proprio per farci conoscere il più possibile però l'adrenalina del derby io l'ho vissuti sia da giocatore che da che da dirigente sono stati qualcosa di qualcosa di bellissimo per quanto magari per per la gente che ci è venuta a vedere stare a Littis in 300 350 anche 400 alcune volte era un problema egoisticamente da da giocatore soprattutto e poi da dirigente giocare una partita con 300 350 persone praticamente con te in campo ti portava un'adrenalina incredibile proprio incredibile io ricordo quando in una un acquisto che avevo fatto Davide Davide De Lorenzo nella settimana di preparazione al derby gli avevamo spiegato lui non aveva mai assistito a un derby da noi gli avevamo spiegato guarda che sarà sarà una partita impegnativa tra l'altro quell'anno il derby alla prima di campionato per cui proprio rompere il ghiaccio della stagione con il derby erano tutti abbastanza tranquilli poi quando arrivamo effettivamente sul campo ricordo che all'intervallo Davide mi disse però dovevi spiegarci prima che cosa stavamo andando incontro perché nonostante fosse un giocatore navigato nel nostro nelle nostre categorie era la prima volta che si trovava dinanzi a una situazione una situazione del genere un'emozione bellissima penso penso un po' per tutti per quanto riguarda i ragazzi i derby dei derby dei ragazzi sono sono partite importanti chiaramente ma forse hanno un fascino anche maggiore per loro perché considerando sempre che nel nostro sport non c'è una rivalità negativa alla fine della partita finisce tutto si torna si torna amici e tutto quanto i derby dei ragazzi vivono li vivono ancora con più intensità perché poi se lo portano a scuola si sfottano ridono scherzano e penso che sia anche una cosa bella non ci sono mai stati episodi nei derby che abbiamo giocato non ci sono mai stati episodi negativi anzi sono sempre stati tutti bellissimi e tutti memorabili secondo secondo me tornando alla domanda di adesso mi rivedo in alcuni ragazzi devo dire di no perché diciamo io quando giocavo non ero diciamo non ero il Lebron James della situazione mi riuscivo a prendere un po' di spazio all'interno delle mie squadre in difesa diciamo facendo una difesa un po' più un po' più sporca mettiamola mettiamola così il basket adesso è cambiato totalmente da questo punto di vista prevede molto atletismo molta molta tecnica per cui no per fortuna forse non rivedo nessuno dei miei ragazzi vicino vicino alle mie caratteristiche diciamo principali principali di gioco poi tiravo da tre ogni tanto qualcuna qualcuna mi andava pure però ragazzi stiamo andando in in chiusura e quindi insomma mi preme farvi questa domanda si parla di campo di giocate tiri da tre tiri liberi tiri da due e molto spesso la gente chi guarda da fuori vede solamente quello a livello di società quanto è dura davvero investire in uno sport come il basket qual è il messaggio che voi vorreste mandare ad eventuali imprenditori insomma disposti ad investire nel basket ma soprattutto quanto mi piacerebbe avere una casa vera e propria per poter praticare basket e secondo voi cosa manca a questa città per fare basket a livelli davvero competitivi cosa manca manca mancano i soldi del calcio semplicemente questo basta perché come dire noi possiamo parlo parlo per lo sporting club possiamo investire sui ragazzi fare accordi con società vicine ma per fare il salto di qualità abbiamo bisogno di centimetri quello che diceva prima Maurizio per cercare i centimetri bisogna andarli a comprare fuori quindi se si vuol fare un qualcosa di competitivo servono i soldi servono i soldi e serve una struttura come dire a disposizione della Polacanese noi ci auguriamo io mi auguro che il calcio femminile possa portarci come dire più ossigeno dal punto di vista di strutture io me lo auguro mi auguro sia questa la voglio leggerla in questo modo avendo una squadra di calcio femminile in serie A io mi auguro ci sia la volontà da parte degli amministratori di avere una struttura degna di una serie A e quindi come dire noi ci accodiamo a questa cosa in maniera tale da poter sfruttare anche noi una struttura adeguata per giocare a Polacanese questo è quello che serve noi quello che possiamo fare andare alla ricerca di allenatori che facciano crescere le giovanili partecipare ai campionati come in quest'anno in quest'anno particolare dove stiamo partecipando ai campionati under 3 under 14 under 15 under 16 come dire più di questo non possiamo e quindi gli altri dobbiamo cercare gli altri come dire gli altri punti dobbiamo cercarli fuori e quindi trovare qualcuno che ci dia una mano dal punto di vista economico e qualcuno che ci dia una mano dal punto di vista delle strutture vai Antonio sì sono sono quasi del tutto d'accordo sicuramente i soldi i soldi del calcio sono quelli ce li sogniamo anche la metà anche la metà dei soldi del calcio ci andrebbero ci andrebbero più che bene sì perché comunque penso che negli anni il percorso delle giovanili stia portando stia portando risultati anche importanti dal punto di vista americo per cui diciamo abbiamo abbiamo gli elementi per poter allestire allestire delle prime squadre con gran parte dei giocatori della nostra città ci mancano i soldi ci mancano i soldi per andare a prendere quelli quei tre quattro elementi che inevitabilmente servono in tutti in tutti i roster che ti permettono di fare quel salto di qualità o comunque di avere una stabilità nei campionati nei campionati che giochi noi abbiamo fatto una serie D venendo da sei anni di promozione con playoff e praticamente rinunciando a salire in serie D sempre all'ultimo poi un anno dopo che è arrivato il Borsellino siamo riusciti a vincere questo benedetto campionato ci siamo ritrovati in serie D che quell'anno era il secondo campionato regionale perché non c'era la Cigog ancora quindi c'erano solo Cisilver e serie D ci siamo ritrovati in serie D ad affrontare squadre che mettevano a terra 100-150 mila euro per una stagione con noi che mettevano a terra il completino e neanche il Borsone il completino e la tutta il completino e la pizza post allenamento esatto sì sì completino il venerdì abbiamo fatto abbiamo fatto una serie D così dinanzi a delle squadre veramente Molfetta che prese Macernis che veniva dalla Serie A lituana ce lo siamo ritrovati contro ci siamo ritrovati contro Mimmo Morena che è storico il giocatore di un palacanestro italiano ce lo siamo ritrovati contro eravamo veramente in un oceano dove non avevamo proprio le possibilità economiche di poterci stare per quanto riguarda le strutture sì abbiamo bisogno di una casa tutta nostra però penso anche che in generale tutto lo sport di questa città sia cresciuto negli ultimi anni di molto riuscire con le strutture a stare al passo alla velocità con cui è cresciuto lo sport in città non è semplicissimo però io sono abbastanza fiducioso che in un modo o nell'altro qualche soluzione ottimale per tutti possa arrivare perché comunque diciamo ad oggi noi non abbiamo mai giocato fuori dalla nostra città non abbiamo mai avuto questo tipo di problema e penso anche altri sicuramente ci manca una casa per poter dire questa è la casa del basket in città però diciamo non è proprio non è proprio buio il momento ecco ragazzi perdonatemi la domanda la domanda scomoda avete mai pensato di fondervi di fare una sola società investire insomma quel poco che c'è da una parte o dall'altra e tentare di fare qualcosa di importante è un'ipotesi che prendete in considerazione per un eventuale futuro che prendereste io su questo rispondo anche a una domanda di Maurizio che ha fatto penso più di un anno fa in una sua trasmissione all'assessore Naci io ero in treno stavo andando a vedere le finali di Coppa Italia a Pesaro prima della pandemia e Maurizio invece ha la stessa domanda all'assessore io penso che avere due società in città abbia aiutato moltissimo a far crescere la palacanestro perché prima che arrivasse la Virtus e prima che arrivasse questa dirigente dello Sporting perché secondo noi abbiamo fatto la Virtus non c'era questa dirigente c'erano altri dirigenti e in quel momento nel 2009 la palacanestro Bitontina non era quella di adesso oggettivamente non era neanche quella di dieci anni prima quando c'era il generale Rella che è stato lo storico presidente fondatore dello Sporting io penso che abbia aiutato molto la crescita della palacanestro il fatto di avere due realtà che si dovevano a confrontare inevitabilmente perché quando hai concorrenza sei costretto ad alzare ad alzare l'asticella e a progettare di più ad avere sempre più idee perché non ti puoi mai fermare perché altrimenti c'è chi ti sta accanto che che ti arriva no? in questi anni ci abbiamo provato devo dire la verità ci abbiamo provato più di più di una volta a far qualcosa a far qualcosa insieme non ci siamo mai non l'abbiamo mai concretizzata per anzi per dettagli sinceramente perché comunque non è molto distante diciamo le idee che abbiamo non sono così distanti come magari in passato però non ci siamo ancora riusciti è una cosa che io personalmente non escludo che possa succedere in futuro però ad oggi ci abbiamo provato ma non ci siamo non ci siamo ancora riusciti Giuseppe come dire non posso che eh confermare quello che ha dato Antonio da parte dello Sporting Club della dirigenza dello Sporting Club attuale eh siamo stati sempre i promotori per unire le forze unire le forze e cercare di mettere in piedi un qualcosa come dire di unico in maniera tale da avere da non fare una guerra fra poveri ma cercare di avere eh gruppi competitivi perché avere eh tre ragazzi da una parte tre ragazzi dall'altro cinque ragazzi dall'altra non è una squadra né da una parte né da un'altra mettere insieme le forze sicuramente può portare a qualcosa di interessante per 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 il basket bitontino noi come dire e Antonio lo sa benissimo siamo sempre aperti a a tutte le soluzioni quando troveremo la quadra tra le varie come dire le 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 varie i vari cavilli molto probabilmente riusciremo a mettere insieme le cose i vostri colori sociali quali sarebbero un domani fai il giallo il verde il nero è l'ultimo dei problemi è l'ultimo dei problemi è l'ultimo dei problemi è l'ultimo dei problemi uno uno dei problemi che come dire avevamo messo sul tavolo una delle prime volte che come dire avevamo parlato del discorso era quello di mantenere in piedi una realtà forse lo sporting club dopo il calcio è una delle società più più vecchie più anziane dello sport bitontino quindi sarebbe un peccato perdere però ripeto siccome dobbiamo guardare all'obiettivo finale al risultato finale questi sono contorni che poco spostano la questione quindi come dire i colori li troviamo nel Danilo per chiudere posso fare una domanda sul momento perché io assolutamente si è casato per ragioni che anche Antonio conosce che non voglio dire non sono di simpativa antipatia so degli impegni dello sporting club però non so degli impegni della Virtus quindi parto da lui se ci dice un attimino gli impegni atletici sportivi di campionato che eventualmente ha la Virtus e poi passerei la parola anche al presidente dell'ASD Sporting anche perché questo lo so sappiate che domani abbiamo una partitissima difficile perché andiamo nella Tana delle Tigri perché andiamo all'Angiulia addirittura quindi voglio dire che storicamente è quello che io che sono andato a scuola a Bari so che cosa è laggiù Antonio a te allora al momento noi non abbiamo attività attività federali non stiamo partecipando attivamente a nessun per il mio è stata una scelta francamente non mia personale o comunque non del mio staff personale ma abbiamo tutti i gruppi giovanili che si stanno allenando un pezzo il mini basket non ci siamo mai fermati neanche durante la pandemia facendo attività all'aperto perché era l'unica cosa che si poteva fare quando si fa abbiamo sistemato i campetti del i campetti del Rossiello e tra il campetto mini basket e il campetto basket abbiamo tutti i nostri gruppi che si allenano quindi dai bambini dei 5 anni fino fino a non siamo riusciti ad iscrivere le squadre ai campionati giovanili quest'anno per scelta delle famiglie le abbiamo consultate non se la sentivano di prendersi questo rischio nonostante i protocolli federali sono abbastanza rigidi e abbastanza funzionali confermo sì perché io l'ho vissuto in prima persona ci penso noi non ci siamo mai fermati per la fortuna di avere queste squadre di interesse nazionale per cui abbiamo continuato gli allenamenti è tutto e il protocollo ha retto benissimo non ci sono stati contagi anche se qualcuno purtroppo si è ammalato però non l'ha grazie al protocollo non l'ha riportato ai suoi compagni di squadra è un protocollo che funziona però ho compreso pienamente anche per questo il pensiero delle famiglie che non se la sono sentita in questo momento perché quando dovevamo scegliere se partire noi eravamo in piena zona rossa con una situazione a Bitonto veramente tragica per cui le famiglie ci hanno bloccato ci hanno dato di no poterivamo aspettare qualche altro mese speriamo che da settembre possiamo tornare più o meno alla normalità per cui abbiamo deciso di continuare comunque tutte le nostre attività stanno funzionando da tutti i polini nel basso del settore di giovanile da tutti si sta allenando però non abbiamo preso parte ai campionati federali quest'anno ci rifaremo quest'estate stiamo programmando un po' di di tornei estivi in giro per l'Italia riprenderemo di là diciamo l'attività puramente agonistica aspettando la nuova stagione sperando di poter tornare più o meno alla normalità Presidente invece lo sporting dove ci porti nel fine settimana? Nel fine settimana andiamo a Langiulli con l'Under 15 come dire ritorniamo dopo venerdì scorso abbiamo giocato venerdì scorso con Langiulli Under 16 e abbiamo portato a casa il risultato quindi diciamo che la prima è andata bene venerdì domani andiamo di nuovo a Langiulli Under 15 e domenica giochiamo di nuovo Under 15 contro Barletta in casa tra virgolette in casa tra virgolette proprio per come dire mi aggancio alla risposta alla domanda di prima no fusione o non fusione abbiamo in atto un progetto con la Marlu Santo Spirito l'associazione un'altra associazione di basket e mettendo insieme le forze perché come dicevo prima siamo aperti a alzare la qualità mettendo insieme più ragazzi quindi con la Marlu ci siamo divisi i campionati e partecipiamo ai campionati federali quest'anno Under 13 14 15 16 e parteciperemo poi a tornei con i ragazzi della D nelle prossime settimane quindi i nostri genitori hanno come dire a differenza dei genitori della Virtus hanno come dire di comune accordo con noi abbiamo stabilito un protocollo ancora più rigido rispetto a quello della FIT quindi tutti i nostri ragazzi da febbraio scorso si sottopongono settimanalmente a un tampone in maniera tale da come dire stare tranquilli e sereni e quindi ovviamente questo è stato un caposaldo per poter poi continuare a fare allenamenti e dare la disponibilità alla federazione per poter partecipare ai campionati quindi questo è quello che stiamo facendo quest'anno con tanto sacrificio sia da parte nostra ma soprattutto da parte delle famiglie perché trasferti tamponi sono tutte cose come dire non sono fastidiosi a dirsi ma sono fastidiosi a passi a pagarle quindi soprattutto non posso che ringraziare tutte le famiglie perché se loro non avessero dato la disponibilità come dire non avrebbe avuto al nostro modo di ragionare come associazione neanche senso allenarsi perché come dire avremmo preferito chiudere battenti e poi ripartire a settembre prossimo però visto che le famiglie come dire hanno capito il momento hanno dato ai ragazzi la possibilità hanno voluto dare ai ragazzi la possibilità di allenarsi e di muoversi quindi mettendo dei paletti che sono più rigidi dalla film e quindi questo ci fa più che piacere perché siamo tutti quanti tranquilli e sereni comunque se mi permetti Danilo parlo da genitore e posso assolutamente sì ma posso dirti che diciamo il clima che si respira e ovviamente ripercorro le parole di Antonio di Nicola che è andato via ma anche di Giuseppe è un clima veramente di famiglia con le famiglie è bello il basket lo dico lo dico veramente da ignorante delle regole del basket per me vale solo quando entra il canestro cioè la palla nel canestro poi per il resto non è che capisco granché però posso dirti che sugli spalti si respira una bell'aria e io che per pochissimo ho vissuto anche con l'altro figlio il grande anche diciamo le realtà del calcio ti posso dire che al netto ovviamente di tutte le eccezioni o delle peculiarità che magari riguardano il carattere singolo della persona del genitore del papà della mamma posso dirti che sugli spalti del basket si respira un'aria diversa i genitori almeno quelli che conosco ma guarda siamo andati a vedere una partita in trasferta ad Altamura le cose erano valide sia per noi che per i genitori altamurani mai che senti qualcuno che inveisce contro un atleta della squadra avversaria ma mai un genitore che rimprovera il figlio dell'altro perché non ha passato il pallone se mai si rimprovera il proprio figlio per non aver fatto bene l'ha giocato per non aver passato il pallone magari al compagno libero o per aver voluto per forza tirare a canestro e magari non averlo fatto quando lo poteva fare un altro che era più libero quindi questa è l'aria che si respira d'altronde non so se sto dicendo una bestemmia correggetemi se sbaglio Antonio e Giuseppe il terzo tempo l'hanno inventato l'hanno inventato i gestisti e e voglio dire e si rispetta e ti posso garantire che è vero che quando c'è la sirena finale non esistono più le maglie diverse non esistono più gli atleti diversi non esistono più i genitori degli atleti che che fino a due secondi prima sarebbero andati in campo questa è la mia testimonianza da genitore e sottolineo genitore che di basket ne capisce quanto di fisica e quantistica questo è quanto e quindi io ringrazio ovviamente la società di mio figlio ma sarebbe valsa la stessa cosa per la Virtus che tra l'altro diciamo annovera tra i dirigenti e allenatori e quant'altro miei carissimi amici quindi questa rivalità noi genitori non la sentiamo e confermo che i derby erano delle delle feste delle vere feste di sport qui sotto casa perché io abito a pochi a pochi metri dalla palestra dell'industriale festa sia durante la partita che dopo posso testimoniarli va bene va bene e allora Maurizio è arrivato il momento dei saluti salutiamo il grandissimo Mario perché è un'altra figura di spicco all'interno del mondo del basket bitontino e non solo Mario è una persona di spicco in generale per la città di Bitonto ringrazio in primis Nicola Pastoressa che adesso non c'è per impegni lavorativi ringrazio il signor Giuseppe Granieri ringrazio il signor Antonio Schialdi mi complimento con loro per l'operato che svolgono quotidianamente per poter dare insomma delle speranze ai ragazzi delle speranze di crescita sportiva e non solo ringrazio te Maurizio per questa ennesima opportunità che vi hai dato mi scuso anche con gli ascoltatori per le due settimane di assenza però insomma purtroppo non possiamo prevedere mai nulla nella vita e vi diamo l'appuntamento insomma si spera alla prossima settimana col basket non abbiamo chiuso qui perché insomma sportivamente non dedica un solo spazio e poi vi lascia nell'anonimato no mi auguro di risentirvi quando ci saranno progetti altresì importanti magari progetti di campionati con la presenza di pubblico e spero davvero che possa accadere il prima possibile e insomma vi ringrazio ancora una volta e spero che questa puntata sia utile a tutti coloro che vogliono affacciarsi al mondo del basket vi aspettiamo grazie a voi grazie a voi e comunque io chiudo sempre con Danilo noi siamo qui a Liberamente quindi se si chiama Liberamente non abbiamo nessun vincolo di palinsesto laddove possiamo le trasmissioni le organizziamo con cadenza laddove non possiamo ma non per colpa nostra ma perché vogliamo offrire un servizio che ne valga la pena come penso stasera perché si è stata una bella puntata tra l'altro testimoniata dal fatto che si è parlato del pallone arancione con entrambe le società sportive bitontine quindi quando la organizziamo la organizziamo perché debba essere di qualità quindi quando non c'è non ci vedete è perché vuol dire che dovremmo venire di qualità non ce n'è esatto ad arrabbattare un'ora di trasmissione e noi non ce la sentiamo quindi questo è quanto in bocca al lupo Antonio Schiraldi in bocca al lupo presidente ci vediamo presto con una prossima puntata di Sportivamente grazie Daniele a voi grazie a voi ciao 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 ciao